Due aragoste. Per gli antipasti è preferibile utilizzare aragoste piccole, calcolando mezza aragosta a persona. Per il ripieno, salsa maionese. Per la decorazione, un mazzetto di prezzetti. Per il semolo, un limone. Immergete le aragoste vive in acqua bollente, dove precedentemente avrete fatto bollire per 20 minuti le verdure, condite con pepe e sale. Unitevi mezzo limone e fate bollire per 15 minuti se si tratta di aragoste, che non superano il peso di GR 250. Lasciatele raffreddare nel loro brodo e preparate, nel frattempo, la salsa maionese. Tagliate le aragoste a metà nel senso della lunghezza, pulitele, asciugatele e riempitele con la maionese utilizzando la siringa da pasticceria. Sul piatto di portata disponete uno strato di prezzemolo e adagiatevi, sopra le aragoste contornandole con il limone disposto a piacere.